Al 31 dicembre 2018 erano 12.236 le domande valide in graduatoria per l'assegnazione di alloggi ATER in Friuli, Venezia e Giulia. Alla stessa data però il 79% delle richieste non era stato soddisfatto, anche a causa della mancanza di alloggi pronti da assegnare. E' quanto emerge dal bilancio sociale 2018 delle ATER presentato oggi a Trieste. Per quanto riguarda i bandi 2019 hanno riferito i vertici delle ATER sul territorio, si è invece registrato un calo di nuove domande. Nel corso dell'anno, ha ricordato l'assessore regionale alle infrastrutture Graziano Pizzimenti, è stata varata una riforma delle ATER che inserisce nuovi requisiti per l'accesso all'edilizia agevolata. Il 2020 sarà un anno di analisi e aspettative perché abbiamo avviato un sistema diverso, ha detto l'assessore. Siamo pronti eventualmente a modificare il tiro. Per quanto riguarda le finanze, nella manovra sono stati stanziati tra l'altro 12,3 milioni per il fondo sociale per le quattro ATER e 2,25 per la manutenzione degli alloggi.